Salve a tutti i friends, salvo su Supercorris, oggi video parlati, mi devo mettere una macchinetta per tenere la voce alta Perché sennò ragazzi, già ieri mi sono andata la voce, 4 ore di live, che me ne ero accorto, io ho detto questo è un paio d'ore Tra una chiacchiera, la gara, il post gara, la masoline, il vrc, 4 ore di live, però siamo divertiti, quindi quello è l'importante E niente ragazzi, siamo qui a fare l'ultimo recappone dell'anno, quindi la quindicesima giornata di Serie A Si bloccherà il campionato per i mondiali, vedete un po', scrivetemi nei commenti, se volete che seguiamo i mondiali Se vogliamo fare un recappone per ogni giornata che si gioca dei mondiali, se vogliamo fare delle live, qualcosa lo potremmo fare ragazzi Noi ci annoiamo, adesso finisce pure la Formula 1, la MotoGP è finita, pure per fare delle live su questo secondo canale Per fare una chiacchiera insieme, potremmo seguire i mondiali, fatemi sapere che ne pensate E in più, ho pensato di fare un recappone dopo 15 giornate, un po' come se fosse finita l'andata Per dare dei voti, dei giudizi sulle squadre in quello che hanno combinato in queste giornate Per quanto riguarda il campionato Fatemi sapere se siete d'accordo, perché sarebbe bello dare un voto e parlare di ogni singola squadra di come si è messa in questo campionato appunto Allora, prima di partire come al solito, iscrivetevi a questo, al primo canale SuperCoris84, al canale SuperCorisShorts Shout out to like, seguitemi sui miei social Sul canale Telegram delle Offerte ragazzi, arriva una settimana di Back Friday, la prossima mostruosa Preparati perché troverete di tutto e di più sul mio canale delle offerte SuperCoris offerte Amazon di Telegram C'è il canale ufficiale SuperCoris84 di Telegram Per le news in anteprime, il sondaggio con cui vi chiedo ogni volta cosa volete vedere sui miei canali C'è FruitRub, c'è il canale Viola dove stasera torna la nostra trasmissione Formula 1 Live con SuperCoris Dove parliamo del Grand Prime Domani sera, indifferita, lo troverete pure qua Partiamo subito Prima partita del venerdì Empoli 2, Cremonese 0 Beh ragazzi, una vittoria del genere dell'Empoli fa aumentare ancora di più il dispiacere per squadre come il Milan Che hanno pareggiato con la Cremonese Una Cremonese che ha 7 punti e non ha vinto una gara E io ve l'ho detto all'inizio campionato Non è una squadra secondo me che si può salvare Perché non ha quelle individualità che possono permettere alla Cremonese di salvarsi A troppi giocatori di livello basso Non di categoria E questa è la differenza Invece l'Empoli va a 17 punti 13esimo È una squadra che usufruisce di quello che ha fatto anche Andrazzoli l'anno scorso Gioca bene Non è male in nessun reparto Quindi Secondo me l'Empoli si salva La Cremonese la vedo già spacciata Perché a meno che non fai una campagna acquisti mostruosa Gennaio, cosa che dubito, è difficile Passiamo a sabato Napoli-Udinese 3-2 Eh ragazzi, altra vittoria del Napoli Buona sì, perché comunque ha fatto 3 gol all'Udinese Ne prende 2 però nella parte finale di partita E si riapre Allora ragazzi, il Napoli in questa prima parte di stagione In queste prime 15 giornate è mostruoso Non a caso, 13 vittorie e 2 pareggi Significano senza sconfitte Che hai praticamente dominato 8 punti di vantaggio sul Milan Squadra mostruosa Cederà a pochi giocatori alle nazionali Durante questa sosta Quindi potrà lavorare E stare tranquilli con i giocatori Però ragazzi, c'è anche da dire Che al Napoli gli è andato bene tutto Gli è andato bene tutto Faccio un esempio banale La partita col Milan non meritava di vincerla Doveva essere un pareggio Anzi, probabilmente aveva giocato il Milan E l'ha vinta Ha vinto tutti gli sconti diretti Ha vinto anche le partite che non doveva vincere Ora, se facesse così Per tutto il campionato Ragazzi, è chiaro che il Napoli Nessuno lo può battere Nelle prossime 23 giornate di campionato Nessuno lo può battere Ma tante volte, mi ricordo Squadre forti che hanno fatto Una prima parte di campionato Incredibile, si sono persi Basti pensare al Milan Due anni fa Contro l'Inter di Antonio Conte Era primo, certo Non era primo come questo Napoli Però era già scappato in classifica Poi è calato Tanto da andare a perdere quel campionato Il Napoli ad ora è la favorita Sta giocando bene Sta facendo miracoli Però ha questi giocatori Di esperienza Che riescono a gestire questa tensione Questo vi dico io Quando le partite inizieranno a essere toste La palla inizierà a pesare Dobbiamo capire se il Napoli Riuscirà a vincere In maniera agevole Tutte queste partite E non ne sono sicuro Perciò vedremo Se lo fa Rastro Vincere il campionato Però dobbiamo capire ragazzi Perché ripeto Il Milan Due anni fa Con giocatori Che ancora avevano Quella consapevolezza di oggi Andò a perdere quel campionato Che sembrava vinto Perciò vediamo un po' Che succede È chiaro che L'Udinese Continua a deludere L'Udinese È già fatto troppo ragazzi I 24 punti Dell'Udinese Già sono troppo È la prima squadra Oltre le sorelle Le sette sorelle A cui Manca la Fiorentina Quindi Per me è già fatto troppo Ma la vedo retrocedere Secondo me è anche la Fiorentina Sopra l'Udinese Capiamoci Sampdoria 0 Lecce 2 Beh raga Vinci il Lecce Fa un buon balzo In classifica È la terza vittoria Quindi devo dire Che il Lecce Più o meno Si sta tirando fuori Un po' Dalle sabbie mobili Io lo davo Per spacciato Comunque il Lecce Rispetto a una cremonese Ha già giocatori Più di qualità I vari Colombo E altre Pedini In mezzo al campo Sono comunque giocatori Di qualità Certamente Se si salvi Il Lecce Sarà una battaglia Fino alla fine Perché Non ha questa squadra Mostruosa Però ha vinto Contro una Sampdoria Uno sconto diretto Che Francamente Ragazzi Mi lascia scioccato La Sampdoria Così è già A sette punti Dalla zona Salvezza Non sembra Aver cambiato nulla La cura Stankovic Io sono sempre contro Andare a prendere Questi allenatori Che hanno fatto bene In campionati Di poco conto E soprattutto Sono troppo giovani Alla Sampdoria Servimo Ranieri Gente di questo calibro Che ti possono portare La squadra in alto Vedremo cosa farà A gennaio Ma mi aspetto poco Perché ragazzi La società è quella che è E quindi ci sono problemi Però in questo momento Ragazzi Vedo proprio difficile Che si salvi la Sampdoria Per un problema Proprio di ambiente E di società Che non ci sta Bologna Li avesse preso il Milan Il Milan Aveva bisogno Di un Arnautovic Di un Milik Quelli erano i giocatori Che al Milan Servivano in attacco Per fare il salto di qualità E non l'abbiamo presi Con i Giroud Che ti fanno 5 gol In 15 partite Con i Leao I Rebic Che ti fanno 4-5 gol Non puoi vincere In quella maniera In cui vorrebbe vincere il Milan Ci voleva un attaccante Da 20 gol Allora il Milan Faceva il salto di qualità Comunque Bologna Si tira su In una posizione classifica Tranquilla Undicesimo A 19 punti Cioè Più di questo Cosa bisogna dire È chiaro Che sta deludendo E normalmente il Sassuolo Solo 16 punti Quindicesimo Ma è anche chiaro Che il Sassuolo Ragazzi Non può continuare Con questa filosofia Di straguadagnare Sui giocatori Quindi ogni anno Levi tutte E meno male Che non si è andato Per frattesi Non ho si immaginare Dov'era Meno male Che non si è andato E Berardi Se no il Sassuolo Quest'anno retrocedeva Il Sassuolo Sì è giusto Vendere giocatori Ma non puoi sostituire Gli Scamacca Con i Pinamonti Che secondo me Sono molto meno Talentuosi I Raspadori Con in Come cazzo si chiama Quella La Fond Non me lo manco ricordo Non puoi Devi capire che I giocatori Si possono anche vendere Ma quando hai già Delle pedine Molto forti Come il ricambio Se no fai stagioni Del genere Penso che si possa Tirare su Perché comunque È una buona squadra Ma sta deludendo Enormemente il Sassuolo Atalanta-Inter 2-3 Vince l'Inter In casa dell'Atalanta Ragazzi A me fa ridere E mo parliamo pure Della Juve Tutta quella gente Mette Eh l'Inter La Juve Sono tagliati fuori Fanno schifo Non faranno niente Gente che non ha seguito Forse E parliamo come Nella Formula 1 Ragazzi Parliamo come Nella Formula 1 Ragazzi Scusa Sono il telefono Purtroppo è gente Che non ha Cognizione di quello Che dice Una squadra Come l'Inter Se per vedere Gli interpreti È mostruosa Era solo questione Di tempo Che l'Inter Non tornasse su Ed è una squadra Che fino a fine Campionato Non solo giocherà La Champions Ma può rientrare Nel giro scudetto Perché Alla fin fine Ragazzi 11 punti dal Napoli Non sono impossibili Da recuperare Già in passato Ci sono state Rimonte clamorose L'Inter Ha i giocatori Per insidiare La zona Champions Ma molto più Di Lazio Di Atalanta Di Roma È una Corazzata Che può far bene Anche in Champions E anche in campionato Quindi me lo aspetto Comunque tornare su Dzeko sta facendo Il fenomeno Tutti i giocatori Partecipano È una grande squadra Al contrario Di un'Atalanta Che vi avevo detto Non può stare In quelle posizioni L'Atalanta può giocare Per una buona Europa League Perché Purtroppo L'Atalanta Non ha i giocatori A livello numerico E di talento Che hanno L'Inter Il Milan La Juve Quando si dice L'Atalanta Vince lo scudetto L'Hotte per lo scrive Dalle prime pagelle Andatela a vedere Se non ci credete L'Atalanta Non può lottare Per queste posizioni Perché Manca un talento Di base E manca una profondità Della rosa Che effettivamente Sto scendo fuori L'Inter Sarà una delle pretendenti Alla Champions E probabilmente Anche allo scudetto Fino alla fine Ricordatevelo Monza 3 Salernitana 0 Beh Questa è una bella vittoria Del Monza Dopo vittorie Un po' altalenanti Il Monza si porta A 14esimo posto 16 punti Meno 1 Dalla Salernitana Proprio Bella vittoria Mi è piaciuta Il Monza comunque Più si è affiata alla squadra Più può fare cose clamorose Perché C'è giocatori Il Monza c'è giocatori ottimi Magari a gennaio Prende pure qualche altra cosa E può fare un grandissimo campionato Ma deluso un po' La Salernitana Perché per com'è forte Per com'è a me piace Non ha fatto una partita degna Secondo me Però può capitare Quando si gioca Tra squadra di classifica bassa Può succedere Che una domenica vinci Una domenica perdi Chiaro che il Monza Sta scalando la classifica 16 punti Io penso che Il Monza Possa farcela Ad arrivare Nelle prime 10 Mancano solo 3 punti Perché C'ha Delle ottime individualità Secondo me E lo continuerò a dire Roma-Torino 1-1 Niente Roma male male C'è squadra Indecorosa Non capisco come faccio Maurigno A non arrabbiarsi Quando Belotti Ma proprio dai infame Vai a prendere il rigore Per segnare la tua ex squadra Ma sei proprio infame A me Belotti Non mi è mai piaciuto Né come persona Né come giocatore Cioè che cosa vuoi dimostrare Sei stato per anni La bandiera del Torino Per anni sei stato là A fare Quando si andava a Superga Petto in fuori A fare l'orgoglioso Poi tu vuoi Trafiggere i tuoi ex compagni Con un rigore Quindi manco segnando in campo Può succedere Va bene Vergognoso Io l'avrei presa a calci in culo Una Roma che Raga ma è pur Murigno Murigno non è più Il allenatore dominante Che era una volta Secondo me È un po' superato Come allenatore La squadra non gioca bene È tornato di bala Ma non si è visto più di tanto Per quanto abbia preso La traversa La Roma gioca male Ragazzi A questo punto La Roma Secondo me Rimarrà A meno che Da gennaio Con Spinazzola Penaldi Un medibala A pieno ritmo Puoi tornare a fare bene La Roma Secondo me Rimarrà anche quest'anno Confinata A questo punto Nell'Europa League Perché Io mi aspettavo di più Mi aspettavo di più Ma I giocatori Sulla zona retrocessione Che non significano nulla Ma sono un buon bottino Segnanzola E questo è un giocatore Forte Che secondo me Può fare bene Anche in squadre Di più alto livello Perché I suoi gol Li fa sempre E quindi Vedete Lo Spezia Che è una squadra Comunque Che non vendi I propri gioielli Si batte Un Verona Che Un anno fa Due anni fa Non se lo pensava Per niente Allo Spezia Milan Fiorentina 2 a 1 Farò un video speciale Sul Milan Sono molto deluso Non si possono vincere Tutte le partite Al novantesimo Per gol fortuiti Autogol di Milenkovic Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Come ha giocato Ha segnato subito Con le A Ha preso un gol Stupidissimo Ha rischiato Di prenderli imbarcata No raga È una vittoria importante Perché rimani A 8 punti dal Napoli Batti la Fiorentina Con una squadra tosta E non merita Di stare dove sta La Fiorentina Perché secondo me La Fiorentina Può tornare sotto In maniera vemente Però devo dire Che il Milan Non mi è piaciuto Da inizio anno È una squadra Innanzitutto fatta male Mancano Delle pedini importanti Non è sostituito Che sì Che era fondamentale Sostituire In attacco Giroud Ti segna 5-10 gol all'anno E non puoi pensare Di vincere un campionato Con un attacco Con l'attaccante principe Che tra Giroud Ti fa 10 gol all'anno Ha delle mancanze Alcuni giocatori Stanno rendendo di meno Vedremo Vedremo Per me il Milan In questo momento È deludente È chiaro che devono Rientrare tanti giocatori Tra cui uno su tutti Mike Magnan Che è uno che ti può Fare la differenza Però Il Milan deve fare meglio Non può permettersi Di vincere le partite All'ultimo secondo Non può permettersi Di sbagliare Passaggi Cross Assist Sbaglia troppo In mezzo al campo E non te lo puoi permettere Perché poi dietro Hai praticamente La Juve attaccata Hai l'Inter Che ti ha ripreso Quindi Non puoi manco Fare degli errori Perché ti salgono sopra Ne parleremo Ne parleremo in un video Fino alla fine Fino alla fine Roma la Fiorentina Nonostante il pareggio Nonostante il pareggio Potrei dire la Lazio Ma la Roma Nonostante il pareggio Non mi è piaciuta Proprio per niente Ciao aglio Sbagliaremo in un video